Scegli Lauretana, l'acqua più leggera d'Europa. Cambia le tue abitudini, bevi acqua minerale e in vetro a rendere. Aiuta l'ambiente per un mondo plastic free e migliora la tua salute. Drink Service la consegnerà direttamente a casa tua. Vieni a scoprire la nuova enoteca di Drink Service. Vini, distillati e confezioni regalo personalizzate per i vostri momenti di festa. Drink Service, in via dei colli a Villa Franca di Verona.